Immaginiamo la nostra vita attuale in cui abbiamo tratto vantaggio da alcuni servizi, ma siamo stati anche forzati a fare delle cose che non volevamo fare. Ecco lì dove questi servizi, queste nuove modalità operative, risultano essere vantaggiose, convenienti. Ci fanno risparmiare tempo, ci fanno risparmiare denaro. Ecco lì sarà un punto di non ritorno. Ci sono aree, per esempio, di servizi, immagino la logistica, il retail, cioè la vendita al minuto anche dal supermercato, i servizi come le banche, le assicurazioni, tutto il settore energetico, dove immagino le trasformazioni saranno lunghe in termini di direzionalità e profonde. Altri in cui probabilmente torneremo a fare come facevamo prima. Lei immagini tutto un mondo della ristorazione, certo ci saranno le trasformazioni profonde, ad esempio nel delivery a casa e così via, ma la pizza poi andremo a mangiarla in pizzeria. Allora io non vorrei confondere questi tre punti e chiudo qui. Non vorrei che si confondessero tre variabili diversi, tre livelli diversi. Uno è una soglia che possiamo rendere comune a tutta la nostra società, un po' a tutto il mondo. Il digitale ha avuto un impatto enorme e non si torna indietro. Questo è diverso dalla profondità e dalla direzione delle trasformazioni. La profondità vuol dire quanto, ad esempio, i servizi, gli utenti stessi, noi nella nostra vita quotidiana, le aziende, la pubblica amministrazione, avranno la capacità di approfondire queste trasformazioni, farle proprie, migliorarle. Altro poi è alla direzione in cui questo andrà. Andrà verso una maggiore competizione, andrà verso una politica più verde, più digitale, andrà verso invece un, magari, un'ulteriore esacerbazione del digital device, cioè della divisione tra chi è da una parte e chi dall'altra della convenienza del digitale. Ecco, queste tre cose, la soglia, la direzione e la profondità, vanno capite meglio, altrimenti si fa di tutto un discorso generico in cui punto di non ritorno e non capiamo bene e quindi non sappiamo neanche andare a mettere le mani lì dove il design delle policy giusto fa la differenza. La politica come la stiamo vivendo ancora oggi è una politica un po' novecentesca, questo è un po' il problema. Allora, un consiglio che io poi cerco di articolare nel libro è forse riassumibile in due punti di focalizzazione. Il che cosa e il come. Allora, che cosa fare? Ecco, su questo io sono convinto che ci siano molte buone idee in giro. Ecco, tra queste buone idee, quali io metterei in luce? Vi dicevo appunto il che cosa fare. Ecco, il XXI secolo, oggi per un paese come l'Italia, sarebbe venuto veramente il momento di investire seriamente su idee verdi e digitali, quindi verdi nel senso di ambientale in tutto il contesto, cioè mettere insieme opportunità e vincoli in vista di un problema per risolverlo in modo tale che la soluzione sia soddisfacente, cioè tragga il meglio dai vincoli e il meglio dalle opportunità. Allora, che cos'è oggi il design, diciamo, il come? Ecco, il come secondo me è fondamentale perché noi pensiamo ancora che basti una legge o un elemento, diciamo così, esterno, o un'idea che piova dall'altro e la soluzione sia raggiunta. Non è così. Bisognerebbe trovare in realtà delle prassi, dei modi di operare, tali che più tu operi in quel modo, più quel modo di operare si rinforza e migliora. Io nel libro faccio l'esempio dei pagamenti digitali, perché i pagamenti digitali non solo facilitano ulteriormente l'economia, ma ad esempio nella loro operazione danno dei vantaggi ulteriori che sono quelli ad esempio della far emergere il sommerso e quindi far emergere una maggiore base per la tassazione e quindi in tempi lunghi permettere, per esempio, magari l'abbassamento della tassazione per chi le tasse le sta già pagando perché c'è più input da un punto di vista fiscale e così via. Noi purtroppo spesso vediamo un po' in tutto il mondo politiche che piovendo dall'alto, non cogliendo questo punto, finiscono poi per essere sostenibili soltanto nella misura in cui vengono costantemente imposte. Allora sono costantemente imposte in termini di finanziamento, il giorno in cui il finanziamento sparisce, sparisce anche quella policy, oppure vengono imposte in termini di punizione. E noi sappiamo bene che le persone, tutti noi, quando siamo forzani a fare qualcosa, appena è possibile smettiamo di farlo. Un mondo in cui queste due cose, quindi il che cosa e il come, fossero ben coordinati, ecco, secondo me questa è una buona governance, ma ne abbiamo tanto bisogno e ancora oggi questo non mi sembra essere colto dalla classe politica attuale. Credo che quello della governance sia sempre di più, lo è sempre stato, ma oggi è ancora di più il problema cruciale nei confronti dell'innovazione. L'innovazione, cerco di cavarmela con una metafora, può essere vista un po' come uno sgabbello, cioè qualcosa che si tiene su tre piedi o tre gambe. Si può fare innovazione inventando qualcosa, scoprendo qualcosa, o facendo del design di qualcosa. Allora magari invento la ruota, scopro l'America, o faccio il design dell'iPhone, tanto per essere chiare. Tutta la storia umana si è sempre basata su questo sgabbello, cioè non è che ci sono periodi della storia umana in cui uno faceva soltanto, inventava soltanto la ruota, poi doveva anche fare il design del carro intorno al quale la ruota avesse una sua funzione. Ecco, tutto questo però ci dice anche che rispetto a questo sgabbello ci sono epoche in cui una delle gambe, se vuole, è un po' più avanti o fa più lavoro delle altre. Abbiamo epoche delle scoperte, l'epoca delle invenzioni, oggi la nostra è l'epoca del design, cioè come mettiamo tutto questo insieme. Ma allora la governance in cosa c'entra? Allora prendiamo lo sgabbello. La domanda sulla governance è che cosa vogliamo fare con lo sgabbello? È soltanto necessario, ma non è sufficiente avere grandi invenzioni, grandi scoperte, grandi design, senza avere poi un progetto o una direzione rispetto alla quale si vuole andare con questo che abbiamo accumulato. Allora, dalla grande azienda alla grande amministrazione pubblica, dal piccolo imprenditore al bambino che ha appena iniziato, dalla piccola start-up fino alla multinazionale, se non c'è una strategia, ecco, soprattutto nel digitale, l'acquisto di digitale, ad esempio dell'amministrazione pubblica, non è affatto soddisfacente. Quando noi abbiamo acquisito tutti questi strumenti, magari spendendo un'enorme quantità di denaro pubblico, la questione diventa abbiamo fatto un buon investimento? Qual era il fine? Che cosa volevamo veramente risolvere? Allora, io qui chiuderei dicendo che purtroppo spesso mi sembra che si metta, altra metafora, un po' il carro rispetto ai buoi nella direzione sbagliata. Cioè, si parte dalle tecnologie per poi arrivare alle soluzioni. Bisognerebbe trovare, in realtà, una chiara identificazione di quali sono i problemi sentiti veramente da chiunque, no, stiamo, noi stiamo prendendo in considerazione, e identificare con chiarezza i problemi e la loro, diciamo, natura Allora, punto numero uno, i dati servono per prendere decisioni informate. Di qui, no, segue subito che l'amministrazione pubblica è fondamentale perché ha i dati, spesso, rispetto ai quali le decisioni possono essere più o meno informate. Secondo punto, che non è lo stesso, i dati sono anche una straordinaria opportunità, ad esempio, di innovazione, business, miglioramento dei servizi, così via. Ad esempio, per creare una nuova startup di tipo medico. Punto numero tre, a volte noi dobbiamo andare da qualche parte per prendere dati, per risolvere i problemi. Ecco, questa, a questo punto, dire che le nostre policy devono essere data-driven, è un errore, perché di nuovo torniamo a, troviamo lo strumento per poi capire qual è il problema. No, prima il problema e poi lo strumento. Questo si vede bene, ad esempio, quando nel settore, soprattutto quello della salute, ci si chiede spesso, questo avviene molto in Gran Bretagna, l'NHS è un colosso, un gigante, ha un'enorme quantità di dati. Dobbiamo sfruttarli. E poi si fanno delle varie cose partendo dai dati per poi andarle a sfruttare. Ecco, questo è un problema perché spesso si spremono un sacco di soldi. Nel senso, non c'è il problema da risolvere, non c'è un'esigenza, non si sente, come dire, il bisogno, ma si impone un particolare modello, una particolare soluzione, lì dove magari non era necessario. Quando amministratrici e amministratori confondono queste tre cose, ecco di nuovo c'è tanto spreco. Spreco non soltanto di quello che si fa, ma spreco anche di opportunità. Cioè non si fa quello che si potrebbe fare e si fa invece qualcosa che non serviva a fare. L'automazione, iniziamo con un po' una banalità, ha sempre fatto un lavoro di istruzione e creazione di lavori. Quello che noi vediamo oggi e che fa la differenza è che l'automazione generata dall'intelligenza artificiale non solo è molto poco comprensibile, quindi ci lascia un po' nel dubbio, ma anche molto veloce. Questa è la differenza un po' rispetto all'automazione, se vogliamo, da rivoluzione industriale. E quindi, essendo più veloce, ma altrettanto dirompente, ci lascerà molto meno tempo per adattarci. Ecco, su questo bisogna essere chiari e dare ragione a chi, quindi, si lamenta, giustamente. Qual è la controparte? Dati alla mano, per esempio, l'ultimo report, l'ultima analisi statistica del mondo del lavoro nel settore dei trasporti su gomma negli Stati Uniti, quindi parliamo, diciamo, di camioniste e camionisti, mostra un mercato che ha bisogno di oltre 200.000 camioniste e camionisti, questo perché? Perché in realtà le auto a guida autonoma sono ancora qualcosa che è molto lontano, parziale, e soprattutto perché abbiamo abbracciato una retorica un po' semplicistica, e cioè che, ad esempio, nel caso delle auto autonome, a guida autonoma, tutto quello che fa un autista è guidare dal punto A al punto B. Lo sappiamo benissimo che non è così. Ad esempio, e le dico una banalità, apre il cancello. Ecco, dobbiamo capire anche che i lavori che noi facciamo non sono soltanto un task, cioè un compito punto, ma che sono, diciamo, dei grappoli di compiti fatti anche con intelligenza e così via. Qual è la controparte anche? Che l'intelligenza artificiale, come tutto il digitale, alza la barra di quello che è economicamente interessante. Lei pensi soltanto a tutto il mondo del commercio online, il cosiddetto e-commerce, oppure e-bay. Ogni azienda che lavora ormai soltanto su e-bay. Quello è un mondo che non sarebbe emerso senza il digitale. Ora, l'intelligenza artificiale ci può togliere parte di alcuni lavori, ci può trasformare altri, ci può anche dare tantissimi altri lavori. A chi pensa che il mondo del lavoro sia una specie di torta finita, per cui se arriva un robot o un'intelligenza artificiale o un qualcosa, o magari uno straniero, tanto poi i problemi sono sempre quelli, o una straniera, togli a me qualcosa perché la torta è finita, non ha neanche sentito una lezione di economia in vita sua. Ora, oggi si può essere un po' pessimisti e decidere di resistere, oppure si può decidere di guardare ai vantaggi che questa tecnologia può comportare, capirne i rischi, e investire lì dove i vantaggi sono enormi e i rischi limitati. Ecco, questo secondo me è, tornando alla governance, alla politica, eccetera, il modo giusto di affrontare il futuro. Il futuro non si affronta con la mano sul freno a mano, si affronta solo le mani sul volante. Quello della sostenibilità è una delle grandi sfide del nostro periodo, del nostro epoca. Se non la risolviamo, non ci sarà una futura generazione a riproverarci, perché semplicemente non ci sarà. Quindi è un'esigenza molto sentita. La cosa importante da capire sarebbe qual è la modalità giusta di avvicinarsi alla sostenibilità. Ecco qua, a me dispiace sentire che la sostenibilità sia vissuta come un sacrificio, un qualcosa che si deve fare purtroppo. Questa è sostenibilità in versione XX secolo. Era quella che faceva male all'economia, però faceva bene all'ambiente. La sostenibilità da XXI secolo, e temo che questo non sia stato capito neppure a Bruxelles, se posso permettermi, è una sostenibilità che fa bene al business. Cioè che crea profitto. Il verde e il blu, quindi la sostenibilità e il digitale, non sono la ciliegina sulla torta, sono la torta nel XXI secolo. Se uno questa cosa non l'ha capita, non capisce neppure, ad esempio, rispetto agli ultimi dati che abbiamo, che sono ormai vecchi quasi di un annetto, ottobre scorso, che in Italia ci sono 3 milioni di posti di lavoro che sono green jobs. Cioè sono lavori nell'area della sostenibilità. Che l'Italia è, rispetto al resto dell'Europa, rispetto a questo Green Italy rapporto del 2019, è uno dei paesi all'avanguardia in termini di riciclo, di recupero delle materie, di energia sostenibile. Ecco, non è un paese dove la sostenibilità viene vissuta come sacrificio. È un paese che, nella realtà, non nella politica, ma nella realtà di tutti i giorni, è vista come un buon business. Allora, quando finalmente usciremo da questo orribile periodo della pandemia, in che direzione vogliamo andare? Oggi la differenza è fatta dal digitale, perché il digitale è molto più amichevole nei confronti della sostenibilità, perché ci permette di fare molto di più con molto meno. Anche qui non tutto è ottimale, ovviamente il digitale, da qualche parte l'energia elettrica la prende, e il prenderla significa grande impatto e così via. Quindi bisogna avere gli occhi aperti, ma anche avere chiaro in mente che per tutta la storia dell'umanità noi abbiamo avuto modelli economici di tipo circolare, semplicemente non abbiamo mai buttato niente, perché non c'era niente da buttare, soltanto a metà, sostanzialmente, dello scorso secolo siamo entrati in un'economia lineare, quindi da un'economia circolare ma povera a un'economia lineare ma ricca. Abbiamo fatto emergere dalla povertà milioni e milioni di persone. Detto questo abbiamo distrutto l'ambiente. Riuscire a recuperare di questi due modelli la circolarità, chiamiamola così, un po' antica, ma non la sua povertà, e la ricchezza, ma non la sua linearità, dell'economia della seconda metà del Novecento, vuol dire mettere insieme circolarità e ricchezza attraverso il digitale.